Ben ritrovati a tutti ragazzi e buon sabato. Sabato è sempre una giornata un po' particolare, una giornata in cui prova ad iniziare il weekend nel migliore dei modi. Sarà la settimana che si chiude l'ultima probabilmente della Juventus senza un allenatore in panchina, perché già nella prossima dovremo avere le firme di Tiago Motta. Lo so, è la stessa cosa che ci siamo detto la settimana scorsa. Nel caso, se non succede, arriviamo poi a sabato prossimo, copia e incolla, stessa frase, e aspettiamo gli annunci, anche se ormai è abbastanza prevedibile che le firme arriveranno nel giro di questa settimana, anche perché tra sette giorni esatti, quindi il 15 di giugno, inizia gli europei per l'Italia. Dopo sarebbe anche oggettivamente troppo tardi, perché il mercato ha programmato prima, noi sappiamo che ci sono delle strategie già condivise tra Giuntoli e Tiago Motta e sono strategie che portano la Juventus a ragionare tanto sull'avere una squadra già competitiva da subito, senza dover fare delle annate intermedie di valorizzazione, che ci sarà per il futuro, ma la volontà è averla già pronta, una sorta distant team, possiamo dire così? La volontà è quella, poi riuscirci o non riuscirci è un altro paio di maniche, un altro discorso perché ci saranno tante operazioni da fare, però la volontà è questa. Ed è una volontà anche di fare una sorta di squadra già pronta ad affrontare la Serie A perché conosce già il campionato. È una frase che abbiamo sentito dire un milione di volte, una frase che è una sorta di guscio vuoto, concordo con voi perché non sappiamo effettivamente quanto questa cosa incida. Faccio un esempio, ricordo senza scomodare Cristiano Ronaldo, però giocatori che arrivano come Tevez o come Vidal, ma addirittura come Pogba, che sono giocatori ovviamente molto molto forti, livello alto, che diciamo che non hanno avuto bisogno di questa stagione intermedia di Serie A per assaporare la Serie A, capire la Serie A quando un giocatore è già forte, già pronto, è un altro paio di maniche, è un altro discorso, però comprendo, capisco che prendere dei giocatori, magari in alcune squadre che hanno avuto degli obiettivi differenti rispetto a quelli che ci si augura possano essere quelli della Juve, quindi non soltanto raggiungere qualificazioni alle coppe, perché non può, non deve e non dovrà mai più essere un discorso da Juve, quello legato semplicemente alle qualificazioni, alla Juve si scende in campo per ottenere sempre il massimo del risultato, poi a fine anno si tira le conclusioni e ci saranno degli obiettivi minimi, ma non possono gli obiettivi della Juve essere pari a quelli dell'Atalanta o, non lo so, del Bologna quest'anno, non esiste, non può, non può essere vero, quindi bisogna ricominciare a mettere anche questi giocatori nella condizione di sapere che arrivano in un club, in una squadra, in una piazza che ha una storia ed è una storia potente, è una storia di vittorie e bisogna ricominciare a vincere, da qui la necessità di allestire una gran bella squadra, però, per formare questa squadra dei giocatori già pronti, sembra che Giuntoli abbia la volontà di fare tante operazioni all'interno della Serie A. E qui si va un po' a scontrare questa volontà con un suggerimento che avevo dato alla Juve, ormai un annetto fa, circa un anno fa, quando vi dicevo, sentite, sapete cosa vi dico? In seguito a tutto quello che è stato l'extracampo dell'anno scorso, le sentenze, le plusvalenze, i ricorsi tra l'altro delle plusvalenze accolti, vedremo se ci saranno novità, però tutto quello che era accaduto per trasferimenti interni nella Serie A. Lasciamola bollire nel suo brodo la Serie A, allontaniamoci da questo concetto che dobbiamo spendere milioni, milioni di euro in Serie A, anche perché l'anno scorso, ragazzi, e ve lo ricorderete perché l'estate scorsa questo esempio lo portavo spesso, ci sono stati pochissimi trasferimenti interni alla Serie A. Quello più emblematico, se vogliamo, è frattesi dal Sassuolo all'Inter, ma era un'operazione con prestito biennale, con pagamento ratezzato esattamente come l'aveva fatto la Juventus con Locatelli, quindi non un'operazione che sposta già un capitale importante, sono tutti capitali spalmati sugli anni di prestiti o comunque di pagamenti dilazionati, e quindi il colpo più importante che c'era stato in Serie A, che era sull'ordine della decina di milioni di euro, era il trasferimento che portava Parisi dall'Empoli alla Fiorentina. Stiamo parlando di, non lo so, lo scambio tra Pirlo e non mi ricordo con chi era stato scambiato ai tempi dell'Inter, Pirlo, Sedorov, per non mi ricordo chi c'è, non stiamo spostando quei calciatori, stavano spostando dei calciatori normalissimi. Ecco, quindi i trasferimenti interni nella Serie A erano già una tematica un po' in disuso per un motivo. Se andavate a guardare quelle che erano le cifre, come abbiamo fatto qui sul canale, delle squadre in Serie A abbiamo notato che in Serie A comprano dall'estero e vendono all'estero. I trasferimenti interni sono sempre minori, probabilmente perché comunque in Serie A c'è la necessità, la volontà di massimizzare gli introiti e le altre squadre in Serie A non possano fare questa cosa, a meno che non si scambino i giocatori con dei cartellini, no? Ieri vi dicevo, non c'è nessuna squadra in Italia in grado di sborsare 60 milioni per Cobb Mainers. L'Atalanta fa benissimo fare la valutazione che ritiene più opportuna, ma dall'altra parte deve capire che c'è il giocatore che ha delle volontà, il giocatore che ha detto chiaro e tondo. Io qui l'anno prossimo non ci sarò grazie di tutto, quindi quelle valutazioni poi si vanno anche un po' a sgonfiare, no? Quindi perché quel mio suggerimento o la mia richiesta diventerà una sorta di, non lo so, chiacchiera al vento? Perché è impossibile comunque che poi le squadre di Serie A non vadano a fare questo tipo di operazioni, perché i bilanci sono sempre lì che aspettano il campo da calcio e quindi dei favori tra le squadre che piaccia o non piaccia ci saranno sempre. Ci scambiamo questi giocatori, sì la valutazione è questa, va bene, allora se la valutazione tua è un po' più elevata allora la valutazione mia lo sarà altrettanto, che è un po' quello che è accaduto l'anno scorso, no? Eh, ci si stupiva delle valutazioni dei calciatori negli scambi, pazzesco, ci si era stupiti di questa cosa, ma questa cosa non finirà mai, non finirà mai, ma non per la Juve, eh? Questa roba non finirà mai, i favori, le amicizie, le squadre sostenibili, non finirà mai, tant'è che appunto sì l'Atalanta può valutare 60 milioni Cobainers se nella trattativa viene inserito Uisen che viene valutato 30 pure lui, o 35, allora è magari 25 milioni per lui, più Uisen che arrivi a 60 di Cobainers perché le valutazioni sono quelle, la vuoi gonfiare? Perché la stai gonfiando? Nessun problema, la gonfiamo in due e lo sappiamo, non c'è un criterio oggettivo per la valutazione dei giocatori, perché fosse solo la Juve che dice, ah gonfio Uisen, no, è anche l'Atalanta che è una richiesta del genere per quelli che sono i presupposti legati al calciatore, quindi accordi con la Juve, lui che vuole andare via, non esiste, non ci sta, non può essere vera, quindi a me piacerebbe interrompere questo tipo di trattative, ma in Italia siamo quelli che piuttosto riprendere i soldi te li faccio dare in due anni, perché non credo che succeda così all'estero o in campionati come la Premier dove è il non plus ultra e continuano a scannarsi a botte di 100 milioni per calciatori anche normalissimi, le robe di questo tipo, quindi è impossibile quella mia richiesta lì, tant'è che oggi è venuto fuori anche un ulteriore nome come contropartita tecnica potenziale possibile per Cobainers che è quello di Moise Ken, che sinceramente mi lascia anche un pochettino stordito, un pochettino stordito mi lascia, perché io Ken all'Atalanta boh, probabilmente è una piazza nella quale davvero Ken può trovare risposta alla domanda ma io che tipo di calciatore sono? È lì che la può trovare, quindi gliela consiglio come piazza, però è anche un po' particolare perché stiamo parlando di un giocatore Ken che è tanti anni che in campionati come la Serie A, ha fatto l'Everton, ha fatto il PSG eccetera eccetera, però a parte quell'anno a Parigi dove campionato proprio non allenantissimo si è faticato tanto nel capire se era un giocatore impattante oppure no, cioè non mi sembra nemmeno uno con la vena del gol, no? Quindi sarebbe molto curioso e dato che Ken era un giocatore in uscita, in partenza già a gennaio, immagino che alla Juventus non dispiace nemmeno come soluzione, però attenzione perché ieri abbiamo parlato dell'uscita di Chiesa, anzi di Chiesa messa sul mercato, oggi parliamo di Ken che può essere inserito nella trattativa, ragazzi c'è da registrare purtroppo il grave infortunio di Milik di ieri sera, ha giocato 5 minuti e poi è stato costretto al cambio con il ginocchio, maledetto ginocchio per Milik perché sono già saltati due crociati a Milik, sperando non possa essere il terzo ma c'è grave preoccupazioni non so quando uscirà un bollettino medico che sicuramente la risonanza o la stanno facendo o l'hanno già fatta ma il CT della Polonia ha detto Milik sicuramente non farà parte della spedizione degli europei e sarà costretto ad operarsi a livello chirurgico, quindi è molto probabile che sia il crociato anche vedendo il video dell'infortunio perché è il movimento da crociato, abbiamo fatto la stessa cosa, io e Milik abbiamo giocato 5 minuti e in quei 5 minuti è stato sufficiente per, quindi un grosso in bocca al lupo a dare che purtroppo lui è ricaduto all'interno di questo brutto destino, di questo tunnel di negatività doveva semplicemente stare tranquillo Milik, si meritava la tranquillità, non perché sia colpa sua ma si meritava di rimanere tranquillo, cioè veramente se lo meritava perché ragazzo serio, professionista esemplare, magari la Juventus stava lottando di cederlo, non era quello il punto, ma c'era necessità che dopo due calvari, dopo due crociati si potesse tranquillamente ritenere un giocatore a posto, invece adesso sarà veramente difficile nel caso, quindi un grosso in bocca al lupo però la Juventus si ritrova che se esce Chiesa, se esce Ken, se esce Milik, c'ha Vlaovic e c'ha Ildiz, quindi quel demone di Giuntoli, se deve valutare anche il reparto offensivo e non solo i centrocampisti, e non solo i terzini, e non solo le ali, qua caro il mio bonus 110% per fare la facciata della Juventus, qui c'è da buttare giù le fondamente e ricostruire, che demolire sai, si fa sempre in fretta e poi è ricostruire che ci vuole un po' più di tempo, quindi un po' di preoccupazione da questo punto di vista, di curiosità vi dico io, di curiosità perché se si vanno a toccare anche cose come l'attacco dove pensavo che la Juventus potesse essere a posto, poi è ovvio che l'infortunio di Milik ti obbliga nel caso a tornare sul mercato, però ragazzi io non ho idea di come far aggiuntoli ed incastrare tutte queste operazioni nel giro di tre mesi con l'europeo di mezzo, non lo so proprio, quindi è necessario, è vitale, è fondamentale avere già chiuso delle operazioni, della serie basta soltanto l'annuncio, Diagomotta, Di Gregorio e si parla di accordi molto vicini anche con Copmeiner e Calafiori, soltanto da trovare gli incastri giusti dal punto di vista economico con le società, quindi sarebbero quattro colpi molto importanti sia dal punto di vista della programmazione, sia dal punto di vista dell'impatto ma anche dal punto di vista delle tempistiche, anche perché io credo che Diagomotta sia uno di quelli che il ritiro vuole già, la squadra non dico pronta ma quasi perché c'è da inculcare un nuovo tipo di approccio al calcio, non tanto in Calafiori che sa già perfettamente quello che vuole Diagomotta, però poi tutti gli altri devono svestirsi di quelle che erano state le indicazioni di Allegri per quelli che erano a Juve e degli altri giocatori, per quelli che erano gli allenatori che hanno avuto in carriera o durante l'ultima stagione e inserirsi all'interno di un mood completamente diverso che quello di Diagomotta, quindi un po' di paura diceva Fabio De Luigi imitando Lucarelli c'è, soprattutto perché ad oggi siamo qui all'8 di giugno e di ufficialità ancora zero, ripeto, alcune cose sono già state programmate, benissimo abbiamo fatto questa settimana di chiacchiera, di divertimento, quello che volete, è ora di iniziare a leggere dei comunicati ufficiali perché sennò qui è un bel problema, ci pensiamo da lunedì, ciao a tutti ragazzi, buon weekend, domani contenuto insieme a Giovanni Albanese, lo registreremo a breve, quindi domani avrete un bel contenutino in cui Giovanni andrà o a tranquillizzarci o a farci preoccupare ancora di più in chiave mercato, ciao!